mamma mia ragazzi solo applausi per questo Bologna solo applausi per questo Bologna e mi viene da dire se avesse giocato con la formazione titolare o almeno con quelli che ha messo verso la fine del secondo tempo dall'inizio come sarebbe finita questa partita nei 90 minuti adesso il Bologna ragazzi è la squadra più in forma del momento non ci sono né se né ma lasciate stare il mio astio verso Tiago Motta che è una cosa poi personale cioè nel senso mi sta sulle balle non mi ha fatto niente lui e me poveretto magari ci conoscessimo magari avremmo anche occasione di andare a giocare la famosa schedina insieme che mi farebbe sbancare stasera avevo passaggio del turno del Bologna e almeno questa soddisfazione me la sono levata ma ragazzi cosa ha fatto il Bologna? ha eliminato i campioni in carica della Coppa Italia che tutto sommato hanno messo prima i titolari di loro e quindi ci credevano un po' di più mentre un Bologna ha provato a preservare tutti i suoi migliori per concentrarsi sul match di sabato che io ragazzi inizio a temere inizio a temere davvero tanto perché io sabato dovrei essere a Bologna sono due giorni che provo a prendere il biglietto e succede di tutto salta la connessione mi dice tempo scaduto dopo neanche 30 secondi che sono dentro per comprarlo continuo a girare 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 se ce la faccio sono ben contento ma ho una fottuta paura ragazzi di prendere di perdere di perdere non dico di prendere l'imbarcata ma di perdere sì cioè questo Bologna ragazzi adesso come adesso è la squadra più brutta da affrontare e lo era per l'Inter e lo è per noi poi vedendo le formazioni iniziali con Tiago Motta che ne fa riposare una marea ho detto boh non che l'Inter non avesse riserve anzi però è stato un match un match strano un match che ha deciso Ravaglia da un lato e sempre da quel lato l'ha deciso Zirske perché poi nei 90 minuti è stato molto meglio l'Inter sicuramente perché Bologna ha avuto poche occasioni una me ne ricordo una clamorosa con Fabian che stava per fare il gol dell'anno ragazzi il gol dell'anno perché stava per fare un gol lo sapete è il colpo dello scorpione si dice che si alza di poco con un tacco al volo che si spegne a lato di poco ma ragazzi Fabiano stava veramente facendo il gol dell'anno il gol dell'anno poi sì dopo c'è Ravaglia che risponde sempre presente tranne poi nell'occasione di Carlos Augusto dove troverà il gol l'Inter l'Inter che nella mezz'ora nel primo tempo ha una grande occasione con Carlos Augusto per frattesi che a botta sicura ma la risposta di Ravaglia è da campanello nel senso che fa capire che Ravaglia stasera è on fire on fire nella ripresa è ancora Inter che tiene comunque un ottimo possesso pressione prova a spingere Arnautovic si mangia un gol clamoroso secondo me perché comunque perde il tempo e calcia fuori malamente dieci minuti dopo c'è poi il cross di Korastat che tocca la palla con il braccio su un cross scusate dalla destra del giocatore dell'Inter è rigore è rigore lo vanno a vedere al Varma si vedeva già dall'inizio che aveva il braccio largo quindi dopo che va a vedere al Var l'arbitro da rigore ma ragazzi Lautaro evidentemente non è proprio bravo dai rigori sbaglia e ravaglia anche stavolta c'è e indovina la trattoria rispinge appunto il tiro di Lautaro il rigore settimo errore su 20 rigori complessivi per il Toro insomma io fossi nell'Inter e in Zaghi ci penserei un po' su a chi far battere i rigori non sono sicuramente il pane migliore o come si dice il suo biglietto da visita migliore no l'Inter che comunque dopo il rigore invece inizia a spingere a spingere ancora di più poi appunto Lautaro dopo punito ferito nell'orgoglio ci prova dal limite ma senza fortuna ancora Carlos Augusto ci prova con un sinistro deviato che per poco sfiora il palo più lontano e poi arrivano i cambi quei cambi che sembrano favorire l'Inter secondo me perché Varella Turam Di Marco e Sensi entrano per l'Inter e poi un po' in ritardo risponde Motta entra subito a Zuzzi prima ancora dei cambi suoi di Inzaghi Zuzzi e Moro ragazzi non è che sono sti giocatori che cambiano la partita ma Andoi e Zirske la cambiano e come se la cambiano entrano appunto sti due e la partita cambia all'ottantatresimo c'è l'altra occasione d'oro per Di Marco e c'è ancora Ravaglia che respinge alla grande e poi inizia il primo tempo supplementare entra anche Pavard aveva fatto un'ottima partita bisseca aveva fatto un'ottima azione aveva dato un ottimo pallone e esce lui poi forse perché ha monito sapete come è inzaghi davvero l'Inter inizia a parte forte in questi supplementari sembra una partita già finita perché appunto arriva al corner di Di Marco Carlos Augusto si beffa della difesa del Bologna perché la difesa del Bologna si dorme completamente Carlos Augusto e batte Ravaglia finalmente l'Inter batte Ravaglia però è l'unica azione che fa in tutti i supplementari l'Inter non fa nient'altro un pochino alla fine ma poco e poi si fa male Lautaro si fa male Lautaro e il secondo tempo supplementare Bologna i suoi gioielli accendono la partita prima sugli sviluppi di un corner con Zirske che mette in mezzo una palla con un tacco volante che fa una roba tipo il tacco volante di Fabiano ma tipo il tacco di Muriel come volevo dire fa una roba allucinata cosa ha fatto Zirske ragazzi cosa ha fatto Zirske tacco volante passesco a rimorchio arriva a Beukema che calcia di prima attenzione e batte a Udero che non ha scampo e qui ragazzi il Bologna ci crede col gol del pareggio il Bologna ecco il Bologna e in tre minuti olè ribaltiamo tutto e ancora Zirske che si si beve a Cerbi in una maniera incredibile grande dribbling mette in porta Andoi è altro giocatore veramente forte altro giocatore veramente forte a cui mancava solo il gol e fa gol che anche il campionato sta facendo bene e l'esterno rosso e blu appunto controlla male la palla ma la recupera si invola si invola Zirske si invola Zirske grosso grosso si invola Zirske e batte l'Inter l'Inter ci prova verso la fine ma senza successo e ragazzi davvero io non ho parole non ho parole perché sto Bologna mi fa veramente paura sono contentissimo per Sartori contentissimo lo dico sempre lo dico tantissime volte Sartori è la cosa che mi manca di più nell'Atalanta è stato l'errore più grande del mondo mandarlo via è uno che dovrebbe sicuramente essere una ancora più grande sempre più grande squadra perché è uno che il suo lavoro lo sa fare bene e obiettivamente lo sa fare bene anche Tiago Motta lo so che aspettavate questa frase qui è fortunato perché con la Roma gli mancavano Lukaku e Dybala stasera l'Inter sbaglia a rigore quindi comunque sia vuol dire che la fortuna gira dalla tua però sei anche bravo sei bravo un po' meno bravo a non metterli subito dall'inizio perché tanto comunque sia un po' si sono stancati perché fare i due tempi supplementari un po' ti stanchi e sicuramente è un Bologna che con questi dall'inizio non so come sarebbe finita questa partita ho paura di un Napoli fresinone atto due non lo so è un Inter che esce dalla Coppa Italia un po' come si dice il pane ghiotto di Inzaghi che sapete che nella Coppa Italia è forte è molto forte a noi ce l'ha rubata ma è molto forte e ragazzi complimenti complimenti a Ravaglia complimenti a Zizke complimenti a tutti sti gioiellini scovati dal buon Sartori e fatti esplodere dal buon per voi non per me Tiago Motta detto questo spero di andare a Bologna spero di vedere una bella partita spero che ce la giochiamo consapevoli del fatto che l'avversario in questo momento è più forte è più forte di noi gioca meglio di noi e mi fa paura vi invito a iscrivervi a te al campanile mi piace quindi a commentare non l'ho detto subito oggi lo dico alla fine probabilmente molti di voi non sono arrivati qui fino alla fine ma chi è arrivato fino alla fine qui metta un hashtag grazie e il grazie sono io a dirlo a voi è un periodo non felice sicuramente quest'anno per me soprattutto in questo periodo sono successe un po' di cose chi mi segue su Instagram non lo sa ho scritto qualcosa anche qui in meno di 15 giorni sono venuti mancare due animaletti di famiglia io per me gli animaletti di famiglia sono persone della famiglia oggi non volevo fare il video neanche oggi sono obiettivamente provato perché quando ti muore davanti agli occhi e tra le braccia è peso ragazzi fidatevi è peso già è stato peso con la gattina che è morta in clinica e invece vederlo proprio davanti il coniglietto è stato è stato dura e vi ringrazio vi ringrazio perché i vostri messaggi le vostre parole mi sono servite davvero tanto e sono in crisi ma se sono qui stasera è grazie a voi e vi volevo ringraziare non lo faccio mai lo sapete chi va a vedere i 300 non so quanti video ho fatto ormai non lo so più sa che non faccio mai queste cose vi ringrazio quando raggiungo gli obiettivi 1000 2005 ma fare ste sruffianate tragedie non le ho mai fatte sapete benissimo sono molto riservato su tante cose su questo obiettivamente ho parlato perché ieri dovevo fare il recap di A non l'ho fatto e giustamente voi volevate sapere anche il perché e io ve l'ho detto grazie a tutti grazie davvero quindi hashtag alla fine grazie complimenti a Bologna davvero complimenti speriamo che si siano stancati un po' e il sabato almeno un pareggino ce lo portiamo a casa vi abbraccio di cuore ci vediamo sicuramente video con l'ospite dovrebbe uscire o domani o venerdì mattina forse venerdì mattina uscirà con dei pronostici e sicuramente post partita con l'Atalanta Bologna Atalanta se sono allo stadio sicuramente sarà stile quello del Sassuolo quindi uscirà in ritardo sicuramente magari verso sera non lo so ci vediamo sicuramente anche prima di Natale oltre a questi video qui quindi scusate se mi sono dilungato gli ultimi due minuti ma io ho tenuto la fine apposta per quelli che so che ci sono ci sono sempre e siamo per molti siamo pochi per me siamo un bel numero soprattutto pochi ma buoni e quei pochi che ci sono so che ci tengono e me lo dimostrano sempre io vi ringrazio davvero vi lascio stare e vi lascio andare perché potrei esplodere già io non mi piacciono le cose alla caramba alla grande fratella ciao ragazzi alla prossima a tutti un abbraccio e vostro muto un abbraccio